Si dicono pronti le azioni di protesta prima ancora di cominciare l'anno scolastico. Si parla dei studenti del blocco studentesco che chiedono per la Valle Peligni all'attivazione immediata di corsi di studio legati all'informatica, un'offerta formativa negata sul territorio peligno che costringe chi vuole perseguirla a recarsi, nel migliore dei casi, ad Avezzano. Molti ragazzi sono scoraggiati dall'eccessiva fatica che richiede la percorrenza di tale tratta, oltre che al costo non indifferente degli abbonamenti e trasporti. Si ritrovano quindi costretti a ripiegare su altro non potendosi realizzare in quella che la loro passione, scrive il blocco studentesco. A Prato La Peligni è già presente l'istituto tecnico Leonardo Da Vinci che all'interno della sua offerta formativa prevede soltanto i settori di meccanica, elettronica e chimica. Abbiamo già contattato il presidente della provincia Angelo Caruso per sottolineare tale problematica. La nostra volontà è che venga introdotto un percorso, campo di studi informati, all'interno dell'offerta dell'istituto tecnico industriale di Prato La Peligna.